Ma dove cazzo sono finita? Aiutatemi Aiutatemi Devo dire che mi son sentita male Cioè Il problema è che stiamo parlando con una ragazza che Cioè, se deve scelere tra la mia vita e quella di un cane a caso Mi prende la pistola e mi fucila nella bocca, capito? L'altana del frerito Oh 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 Ciao Broderigno Allora, mi fate qualcuno della community di Kasumi Mi può dire delle domande tipo che sono dei suoi punti deboli Tipo chiedi del viaggio in Giappone, ok? Ciao Kasumi Ciao Ciao Com'è andato il viaggio in Giappone? Come? Com'è andato il viaggio in Giappone? Così, la prima cosa che chiedi, com'è andato il viaggio in Giappone? Bene, 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 è andato bene il viaggio in Giappone Ok, ok Veramente un piacere averti qua Io, guarda Ho fatto di tutto veramente per poterti avere ospite su questo canale È stata dura È stata dura È stata veramente una lotta però ce l'abbiamo fatta La domanda essenziale è perché Cioè perché mi volevi sul tuo canale? No, beh, perché comunque ti vedo su Twitch Sei una streamer valida Che è simpatica Sei anche una bella ragazza Ma non è rilevante Ti chiedo anche scusa per averti chiederti questa cosa Non sto capendo se è una presa per culo questa oppure No, vabbè, esiste, sto invitando perché è simpatica Vabbè, non è che se mi dici che sono una bella ragazza vuol dire che me la prendo, eh No, 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 però magari non puoi fare allusioni a nulla No, 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 figurati no Era una domanda onesta Se tu onestamente, se mi avevi invitato perché ero una bella ragazza me lo potevi dire, non è che ti mangiavo No, 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 non ti ho invitato perché sei una bella ragazza Ah, no, dico, seppure fosse, capito, non è che ti mangiavo No, 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 ti ho invitato perché secondo me sei una valida streamer Ok, ok E quindi mi avrebbe fatto piacere, mi avrebbe fatto piacere appunto avere una conversazione con te Ok, ok Allora, Kazumi, benvenuta Ti voglio chiedere giusto un attimo due cose per capire Dimmi tre cose che ti facevano dire no da Grimbaud mai nella vita Allora, ti parlo proprio oggettivamente su quello che pensavo Vai Cioè non ti dico tre cose, ti dico quello che pensavo in generale Libera Allora, io ti dico la verità Quando tu mi hai chiamato, la prima volta proprio, non so se ti ricordi Chiamata, femminile Chiamata, vabbè, ok, uguale L'importante è che capisci il discorso che ti sto facendo e non ti metti a correggere chiamato e chiamata Che è l'ultima cosa, diciamo, che devi calcolare Quando mi hai chiamata in live la prima volta Mi stai ascoltando? Sì, 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 certo che mi stai ascoltando Ah, ok, no, perché ti vedevo un po', un po', ho capito Ok, dicevo, la prima volta che mi hai chiamata in live, tanto tempo fa, appunto, forse due anni fa, non mi ricordo neanche Io non ti seguivo troppo Ho visto qualche tua live, ma proprio così perché diciamo che inizialmente io sono arrivata qui su Twitch che non conoscevo nessuno, non conoscevo neanche la piattaforma Quindi per informarmi un po', insomma, giravo e cercavo di capire un po' le persone che c'erano su Twitch e sono capitata diverse volte nelle tue live E devo dire che quando sono entrata nelle tue live non mi è piaciuto molto il, diciamo, il tuo contenuto e come trattavi le persone e gli ospiti che erano nelle tue live Immagino soprattutto le donne No, ma in generale, cioè non è che sono andata a vedere la donna o l'uomo Quando entravo solitamente notavo questa cosa che, poi sono molto empatica pure, quindi le noto determinate cose Notavo che le persone spesso e volentieri sentivano un po' in soggezione, cioè si vedeva proprio dall'espressione Attraverso cose che dicevi magari mi facevi sentire un po' in soggezione Questa è una cosa che mi dà molto fastidio Io non sono mai entrata nella tua live non perché avessi paura che tu mi mettessi in soggezione Perché io sono la tipica persona che se tu mi dici una cosa che non mi va bene te la dico in faccia Cioè se mi stai sul culo ti vengo e ti dico come cazzo ti hai permesso di dire questa cosa? Te ne vai a fanculo Ma semplicemente perché non volevo proprio, come posso dire, pubblicizzare questo tuo contenuto Cioè mi dava fastidio far passare l'idea che a me andava a fare con te un contenuto di questo genere Non mi piaceva proprio E secondo me è vero che ti conoscevano tante persone, eri seduito da tante persone Ma perché molti mi hanno detto, ma perché non... No, eri perché più prima che adesso, se non sbaglio Poi non voglio dire stronzate, è vero? Ok, però sinceramente preferisco che vieni seguito meno rispetto a fare stronzate Cioè se fai stronzate e vieni seguito di più e porti altri contenuti un pochino più costruttivi E vieni seguito di meno, io preferisco la seconda piuttosto che la prima Cazzo non mi frega dei tuoi follower, personalmente a me non mi frega niente Cioè la prima cosa che vado a vedere, se tu mi inviti, è cosa porti, non i tuoi follower Ed è quello che stavo per dirti Che molte persone magari accettavano di entrare nella tua live Perché vedevano che avevi un bel numero e si potevano fare anche una bella nomea Un bel pubblico di persone, no? Dicevano io vado, mi sponsorizzo, mi becco quello che mi dice Personalmente a me non è stato mai un cazzo Cioè che tu mi porti la gente, ma mi porti soltanto persone che ti seguivano prima Ignoranti perché devi ignorare soltanto il contenuto che facevi per poterlo seguire O persone che, bambini, perché magari c'erano persone che non capivano proprio Dicevano vabbè è divertente, magari sta facendo contenuto Io invece, persona matura, notavo che tu stavi mettendo a disagio delle persone Quindi non volevo, semplicemente Cioè questo è il motivo per il quale ti ho sempre detto di no E ora ti ho detto di sì, perché non è che ti guardo più di tanto Però quelle poche volte che mi è capitato di vederti Ho detto, boh, magari effettivamente sta cambiando il suo contenuto Però questo va al di fuori della tua persona Cioè molti hanno detto, eh ma tu l'hai odiato, tu lo odi Io non odio nessuno Io semplicemente non sopportavo la tua tipologia di contenuto Al di fuori da quello che sei realmente Cioè a me non interessa niente quello che sei realmente, ora come ora Cioè tu mi hai invitato, io vado a vedere il tuo personaggio, no? Quello che fai in live Non mi hai invitato a vedere la tua persona Perché se no, cioè non c'ha senso Se tu sei una persona in live piuttosto che da vicino Io vado a vedere quello Perché tu mi hai invitato in live Non mi hai invitato ad uscire, capito? In che senso? Scusami C'è senso? No, sì sì, ho capito il riferimento Hai capito? Ok, a posto Scusami, tornerò da io E no, ci sta dal tuo punto di vista Cioè allora, io ho Cioè, il mio contenuto Oddio, chi è entrato? Ah, ma mi sa che hai fatto un piccolo errore Ma niente Io ho fatto vedere il link course No Ok No, allora ti spiego Kasumi Effettivamente il mio contenuto era Cioè, era un po' prendere per il culo Ma anche tu era prendere un po' per il culo Però diciamo che Non ho mai messo a disagio le persone Cioè tutte le persone Sì magari facevano un po' un compromesso con i numeri E dicevano vabbè me lo faccio andare bene Però, dai, comunque sono una persona abbastanza rispettosa Ma questo lo dici tu o le persone che sono venute in live? No Cioè loro lo dicono Tutte le persone Non c'è una persona che è venuta nella mia live che si è lamentata Cioè nessuno che mi ha detto No, guarda, non mi trovo bene nelle tue live E non ci voglio più Personalmente io comunque ho sentito diverse persone che si sono lamentate di questa cosa E dimmene una Non lo so Ma non è che te lo venga a dire adesso Non è che sniccio così la gente Però comunque ti dico che in realtà Ma pure che l'hanno detto proprio esplicitamente sui social Che non si sono trovati bene Ma in tre anni con due ospiti al giorno anche diversi Diciamo che ci siano tre, quattro persone che si possano lamentare Credo sia praticamente analiticamente umano Vabbè certo, ci sta Comunque io parlavo di me Cioè a me No, no, no Ma certo Che tu ti trovavano bene o male Certo, certo Ma infatti il tuo punto di vista è giusto Tu vedevi una cosa che non ti piaceva E dicevi io in questo contesto qua mi sentirei a disagio Cioè non mi sentirei a disagio Ma non mi piacerebbe essere Considerata in questo modo Trattata in questo modo E quindi giustamente così Ma ti faccio una domanda Tipo se fossi entrata in una mia live Dici vabbè Ai tempi Dicevi di accettare Accettavi, entrivi in live e ti beccavi una guidata in cuffia Ovvero che tipo Una? Guidata in cuffia Nel senso che ti mettevo con un ragazzo a parlare Dicendoti tipo Parlate un po' E io tipo gli dicevo in cuffia che cosa dire Tipo per prenderti per il culo Ti incazzavi? Cioè no Nel senso non è questa la tipologia di contenuto che ti dico che mi dava fastidio Cioè quello magari potrebbe essere anche divertente Ovviamente dipende da che cosa dicevi Allora ti dico la verità La cosa che non posso mai dimenticarmi di quando io entrai in una tua live a caso Ok E quando stava una ragazza con te Noi non mi ricordo chi cazzo era Se era conosciuta o non era conosciuta Io poi a parte non conosco nessuno Ok Però c'era questa ragazza Discalcula Se si dice così Ah vabbè minchia E tu È l'unico errore che ho fatto nella mia carriera Eh vabbè io sono entrata proprio in quello minchia Che tu fa Ok sei stato sfigato magari Ma staccato per un anno Cioè Io sono entrata in live quella giornata Magari sei stato anche sfortunato Però io sono entrata in live quella giornata E non mi è piaciuto Poi ovviamente sono capitate anche altre volte Ripeto Non mi piaceva il fatto che Dovessi prendere così tanto in giro Cioè per me non è un contenuto Come ti posso dire Non mi piaceva Cioè che tu lo vuoi portare Io non ti dico niente Infatti non sono mai venuta a rompere il cazzo A dirti oh ma che scrivo di contenuto Né tantomeno lo dicevo in live Massimo dicevo Non mi piace il contenuto che fa No no Ma è stata molto educata Anche nel Cioè mi avessi tutto questo Guarda ti ringrazio dell'invito ma non mi interessa Esatto esatto Figurati Cioè quello che fai tu nelle tue live Lo decidi tu Perché tu lo gestisci Per essere invitata e devo venire Chiaramente deve piacere anche a me Ci devo stare al gioco Anche perché secondo me diventerebbe brutto per me Ma anche per te Perché non sto al gioco Ci incazziamo entrambi E non andiamo bene Capito come tu dire Certo certo No spiego per chi non c'era Cioè per chi non sa qual è il riferimento E che tu ti ricordi perché c'era in quel momento La roba della tipa discalculica Era che praticamente io C'è questo indovinello Che se fai fare tipo 2 più 2 4 più 4 8 più 8 Così Semplicemente Una persona Se dice Pensa 1 da 5 A 12 Pensa 7 Io questa ragazza qua Le dico Fai 2 più 2 E lei Non so Dai 2 più 2 Lei non so Dai E poi dice 4 4 più 4 Lei no Non me la sento Io dico dai cazzo 4 più 4 Lei fa Ma sono discalculiche Io dico Figa 4 più 4 Non è che Ce lo sa fare anche uno discalculico Immagino E quindi poi Tutti gli discalculici d'Italia Sono venuti a Dirmi che era una merda Io ho sbagliato Perché non lo sapevo Ho fatto un errore Ho preso in collegerezza Un problema E basta Mi sono preso la merda Per due mesi E basta Mi dispiace che in quel contesto C'era proprio Kasumi Sen Che stava guardando E lì Mi ha Vabbè Nel senso Io ti ripeto Ora che ho notato Che comunque Il tuo contenuto Non è del tutto cambiato Perché comunque Quello sei tu Cioè quello è il tuo personaggio Che ti si è creato Però comunque Rispetto a prima Più fattibile Capito? Sì 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 Beh adesso siamo qua tranquilli Mi stiamo chiacchierando Ma poi adesso mi sono molto Cioè ho smesso di invitare Gente anche Comunque che Mi metteva propenso A fare quel contenuto lì Cioè invito comunque Sempre streamer O comunque gente che penso Che abbia un Che dia un valore aggiunto Proprio a livello Di persone Non solo perché magari È una figa E la inviti Capito? Non so come dire Cioè prima invitavo gente a caso Giusto per Avere più gente possibile Nelle dirette Ebo Creare robe a caso Cioè questo è il concetto Senti Kasumi Ma tu quanti anni hai? 22 Cioè 2002? 2001 Quasi 23 Sì dal mio stesso anno Ah pure tu hai 23 anni quasi Io ho 23 anni Ho appena fatti Ad 9 aprile Tu quando è che ti fai? Voglio indovinare Il 17 ottobre? No Ho provato 16 agosto 16 agosto Vabbè un giorno in più E due mesi prima Sì Niente Vabbè comunque ci sono andato Abbastanza vicino E di dov'è che sei tu? Del Giappone? Magari del Giappone Napoli Veramente? No? No battute? Giuro? Ti sto solo chiedendo Guarda che l'ho visto eh L'ho visto negli occhi Stavi per dirlo Ti ho letto negli occhi Ti prego Non rubarmi A favore No no Ovviamente non voglio far battute Su Napoli No sì E com'è che si vive All'estero? Cioè a Napoli All'estero? Come si vive lì a Napoli? Com'è la vita? Cioè Come tutte le altre parti Beh sì Esci tranquilla Tu come esci dalle tue parti? Ma Con l'orologio al polso? Qua no purtroppo Perché ci sono io Però comunque per il resto Puoi star tranquillo Ma a parte questo Ti sto Cosa vuol dire la parola rizzando? Tu vuol dire che ti stai incazzando? La stai rizzando? Vuol dire che ti sto incazzando? Ti facciamo incazzare? No rizzando Non vuol dire questo Sicuramente No rizzare Quando tipo Ti interessa una persona Quando ti provi interesse Per l'altra persona Rizzando Che stai facendo qualcosa Che stai attirando La sua attenzione Ah ok Ah è aiz No scusa Aizzare cosa vuol dire? Aizzare vuol dire Fare incazzare? No aizzare È uguale? Alzare No aizzare Aizzare Alzare Aizzare Aizzare No aizzare è tipo Dar fast Ragazzi non so più l'italiano Figa mi sono Incazzare che cazzo è? Aizzare Ah è incazzare? Aizzare Non lo sapevo neanch'io Se io ti faccio aizzare È per questo che mi sono confuso Aizzare è fare incazzare Mi dicono Incitare l'offesa Riferito ai cani Non so perché C'è scritto questa cosa Comunque Incitare ok Incitare e provocare Incitare sì Comunque Questo è il concetto E no Com'è la vita a Napoli? Tu vivi a Napoli da quando sei piccola? Sei nata a Napoli? Yes Ma non parli Napoli Non hai l'accento napoletano Non avrei mai detto che Perché parlo con tante persone Che non sono di Napoli Quindi prendo un po' Capito da tutte le parti Ok posso chiederti dove cazzo Dove cazzo è collegato quel cavo? Perché sembra collegato a un lampadario Ma questo Sì è collegato a un lampadario Ma ecco Posso vedere dove collegare? Aspetta Se ti metto tutto schermo Lo riesco a vedere Vediamo No non lo puoi vedere Perché è collegato al computer Ma è il computer Non hai mai visto un cavo collegato al computer Il computer è flutto Ambo Vabbè Ok No comunque Vuoi vedere no? Magari per curiosità Eccoci Camlink Sì Ogni fase si svantula Qua vedi? Ah perché Oddio abbiamo lo stesso case Dovresti saperlo diciamo Evidentemente non hai messo mai le cuffie collegate Mi sposta un pochino più a destra Non in mezzo Scusami Ok E senti un attimo Tu hai detto che sei nata a Napoli E cos'è che fai? Cioè tu sei una tipo che sta a casa Che esce con gli amici Cioè che vita hai tu? Cioè sei tipo taku Fissata con gli anime Non riesco ad inquadrarti come persona Vai a ballare Cioè cosa fai? Allora Non sono taku Non mi piace definirmi così Mi piacciono gli altri Aspetta un attimo Ho il raffreddore Devi perdonarmi Non so Fa così ridere il raffreddore? Meno male che non hai l'influenza Se no risate per due ore Ci sta No non faceva ridere questa vittura Dicevo Non sono taku Non mi piace definirmi così Mi piacciono gli anime Li guardo Però Taku Non sono E Non mi piace ballare Non mi piace andare a ballare Preferisco le giornate Più tranquille Quindi uscire con gli amici Non esco spesso Esco soltanto il sabato E la domenica Però Preferisco le serate Un po' più tranquille Non mi piace ballare Ok Cioè oddio Ogni tanto ci può stare magari Però dipende dalla tipologia Di discoteca Ok? Cioè se è una discoteca tranquilla Ci vado senza problemi Beh discoteca tranquilla Abbastanza un'antichesa Ma in realtà ci sono No ci sono Ci sono Ci sono ma Cioè non sono proprio discoteche Sono più serate Diciamo dai Pub Non discoteca Pub Dai sì E Hai visto Attack on Titan? Sì ma non tutto Tu hai visto Attack on Titan? Sì uno dei pochi anime Che ho visto Io ho guardato Attack on Titan Ho guardato The Promised Neverland Ho guardato Erased 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 Vabbè Ok non l'ho mai visto Ho guardato Non me lo ricordo neanche Ho guardato Toradora Il mio preferito Bello Toradora Ho guardato Vabbè non ne hai visti pochi dai Vabbè insomma Ho visto un po' di video Cioè di film di Miyazaki C'è incantata Ragazzi del Verone l'ho vista al cinema Porco Rosso Ci sta Ma ti piacciono Cioè Ti piace guardarli Non li guardi perché non hai tempo No Mi piace guardarli Io non guardo Non guardo serie Per proprio per Boh Non mi va Non è Tutto il tempo del mondo Faccio un cazzo tutto il giorno Però Ah ok onesto proprio Perfisco scorrere TikTok O giocare a Clash of Clans Ci sta onesto Ognuno le sue Però quando Attack on Titan L'ho guardato di recente Quasi tutto Anche io L'ho un po' mollato La quarta stagione Perché diventa un po' noioso Però Sto cercando Di finire di vederlo Perché Eren Yeager è un figo E io sono molto attratto dagli uomini Solo per quello diciamo Sì sì Ma negli anime Mi attraggono sempre gli uomini Cioè Preferirei fare sesso con un uomo Sì è vero Cioè oddio In realtà non i più fighi Però In alcuni anime Si Sono messi in risalto meglio Diciamo E il tuo anime preferito qual è? Ah Your Name l'ho visto Una merda Abortita Per me Your Name Ah No Bello Your Name No Una merda Non mi è piaciuto per niente Troppo 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 incasinato Ma che incasinato Minchia Allora Attack on Titan Non lo puoi guardare proprio Scusami No sì Attack on Titan È veramente un macello Però io infatti lo guardo Perché purtroppo io Con il sede delettivo È molto basso E quindi io lo guardo con C'è GPT Che gli faccio le domande Nel mentre Tipo Ma quindi Non sto scherzando Io Attack on Titan Non c'è tutto Ho dovuto usare C'è GPT Per capire Tutto quel cazzo Che è successo Sei mila robe Ci ho capito niente Your Name Non so Gli anime sono molto Spesso sono molto Come si dice Cioè mi piacciono più Quelli di tipo The Promised Neverland Per chi non ha mai visto un anime Secondo me È la migliore serie Con cui iniziare Ma io tipo Non l'ho mai visto Veramente bella Semplice Trama facile Personaggi belli A parte la seconda stagione Ma Tokyo Ghoul Tokyo Ghoul ho letto il manga Non l'ho mai visto Allora Manga bello O ne ho letto Ne ho letto i due solo Di quei due volumi Che è l'anime Ho provato a leggere Due volumi Death Note No Death Note no Mi manca purtroppo Bello Death Note Ma l'anime proprio No no Beh sì Bello Death Note Cioè il primo che Sono tipo 6.000 episodi Da dieci anni No assolutamente no Anzi quello che guardano Spesso tutti quelli che iniziano A guardare anime Perché E ma erano su Netflix No Devo guardarlo su Anime Saturn Sì Ma è illegale quel sito Non dovremmo dire Che si possono guardare Degli anime No No anime Saturn Non è illegale No è Crunchyroll No come si chiama Quello lì Anime Saturn è una piattaforma illegale Dove c'è proprio Le pubblicità E come si chiama l'altra Crunchyroll Crunchyroll Ok Crunchyroll Ok Ragazzi guardate sempre le cose Da piattaforme Legali Assolutamente Però tu la sapevi questa Come mai Ah beh perché io Sono anni che guardo le partite Non pagando Ah ok Giustamente 200 ore al mese Da son Gazz Gazz Ovviamente Comunque a parte Queste roge directate Kasumi Qual è la tua più grande passione Oltre le live Ma tu come hai iniziato a fare live su Twitch Tu hai mai fatto tipo Robe Tipo pool streaming No? No assolutamente no Fa proprio parte della mia persona Fare pool streaming No io ho iniziato facendo Allora se dobbiamo parlare proprio dei principi Io facevo video su YouTube Ma ero seguita poco Ok Di cosa parlavi su YouTube? Allora prima ho iniziato facendo tipo challenge Le solite cose che si portavano Poi ho fatto video dove cantavo Quando avevi tipo 12 anni? Sì Sì Più o meno 13 C'è ancora il tuo canale? Scusa Sì c'è ancora Ma ho archiviato i video ovviamente vecchi Perché erano veramente tanto cringe E inguardabili Dai C'è uno che si può vedere? Non vecchi Ci sono i nuovi Che sono recenti Quindi non ti divertiresti Mi dispiace E Poi vabbè Successivamente Ho mollato l'idea di YouTube Perché vedevo che non mi calcolava nessuno E ho iniziato diciamo A postare Foto su Instagram A comunicare con le persone che mi seguivano Sulle storie Infatti venivo anche presa per culo Per questa cosa Perché avevo tipo 10 persone che mi seguivano Io tutta che comunicavo Chiazzo Comunicavo Non comunicavo Non si sa Ehm Poi vabbè Ho iniziato a fare TikTok E successivamente Ho iniziato su Twitch Che secondo me È la piattaforma migliore Che sto utilizzando Comunque Casumi Io ti faccio vedere una cosa Che ti farebbe Secondo me Tornare la voglia Di rimettere pubblici Tutti i video che hai Ok Ti faccio vedere una cosa Spero che qualcuno L'abbia Postata in qualche modo No Non ne sento nello svapo Ah ma gli avevo fatti togliere Aspetta No devo fare l'accesso Vabbè che pare Era una mia Una mia vecchia sigla Dove c'ero io bambino Che facevo Lui è Grimba Grimba Guarda che anch'io Ero così cringe Non ti preoccupare Quindi non mi verrebbe voglia Di rimetterli A parte che l'ho fatti vedere In live mia Quindi Quindi sanno già La tipologia Prima io mi chiamavo Dorky Dorky? Ma è vero Dorky? Cosa vuol dire? Dorky? Allora in realtà Vuol dire sia strana Che stupida Ah Con un connubio Quindi Quindi io specificavo Ogni volta che Quello che avevo scritto io Era strana e non stupida Però questa cosa cringiava Perché capito Il fatto che dovessi specificarlo Era Veramente Vabbè Pensa che io mi chiamo Grimba Ode c'è solo una E Cioè C'è un capo stipite Dei coglioni Quindi Ognuno Ognuno ha le sue E Kasumi Sen Cosa vuol dire? Un nome molto tappo Kasumi vuol dire nebbia Mi sono spaventato Ok Kasumi vuol dire nebbia E Sen? Sen sarebbe Sencio Che vuol dire capitano Che è il mio cognome Quindi Ma quindi tu tipo Sei il cinese? C'è il giapponese? Magari no Però se tipo C'è il tuo sogno Andare a vivere in Giappone? Non andare a vivere in Giappone Perché Secondo me è difficile Vivere in Giappone Il Giappone Io ci andrei tipo Una volta all'anno Per un mese Per distaccare Da quella che è la vita Diciamo Di tutti i giorni Perché lì È come se ti rilassassi proprio È tutto diverso Quindi Mi piacerebbe andare Tipo una volta All'anno Per un mese Per un bel po' di tempo Però no Vivere no Se dovessi andare a vivere È molto diverso Da quello che viviamo Diciamo Nella vita Di tutti i giorni Non so se riuscirei A sopportarlo Ok Ok Certo Io vorrei farti una domanda Però pure Che ti offendi Magari Una cosa che non vuoi Prova a dirlo Se non mi piace Ti dico Non ti rispondo No Vorrei farti una domanda Vorrei chiederti Vai vai Una roba privata tua Ma no Non vuoi dirla Non lo so Beh se non la voglio dire Ti dico Non la dico Ma Tu in questo momento Sfianzata Chiedere Non mi sei so Allora Non ne parlo Non ne parlo Sui social Preferisco tenere queste cose private Però Dico sempre Che sono innamorata Non dico Esplicitamente Diciamo Se sono fidanzata Se non sono fidanzata Cioè Preferisco Rimanere privata La vita privata Semplicemente Cos'è che ti Ti turba Cos'è che Non capisci Nel senso Che tu sia Quasi Cioè È più forte Dire sono innamorata Piuttosto che dire Sono fidanzata Cioè Come Ok Come immagine Cioè Ok Sì Sono d'accordo Ma Dire che sei fidanzato Implica Far nascere le persone Curiosità di sapere chi è E dire Sono innamorata Invece dici meno Sono innamorata Sì Perché magari uno vuol dire Sei innamorata della vita No Sicuramente no Però Ok Ho sentito urlare qualcuno Mi sa che Mio fratello Ah ok Ah tu vivi con tuo fratello Vivo con i miei genitori proprio in realtà Io non vivo ancora da sola E cos'è che c'è dietro quella Quella roba di tipo kimono Dai Vuoi vederlo Kimono Vabbè No C'è una roba molto giapponese Non c'entra proprio il kimono Però se lo faccio vedere dai È Narnia Sei pronto Sei pronto Vai 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 Non c'è un cazzo No Che t'aspettavi Ci fosse Non lo so Ma scusami Lì finisce C'è il muro No ma se vuoi saperlo Di fianco a me c'è anche la porta All'entrata Vediamo Dove entrano le persone Mi metti in grande Perché non lo vedi Se no Ma tanto è una Una porta blindata Tra l'altro No ma che blindata Scusa Quella è lì la tua camera da letto No questo è il corridoio Ma come il corridoio figa Ma tu ti stimi in un corridoio Io stremo dal corridoio Sì Cioè quindi ti passano le persone Davanti mentre stremi Sì perché secondo te C'ho questo Per non far vedere Le persone che passano dietro Wow Porca vacca Mondo magico Vero Mondo magico Ma tanto non vorrei immaginare Come cazzo è fatto a montare la postazione In mezzo a un corridoio No in realtà c'è Un buco Diciamo Per metterla Perché c'è tipo Una rientranza Quindi fortunatamente L'ho potuto fare Non rompo il cazzo Quindi quella a destra È la porta di casa Sì la porta di casa Sì la porta di casa proprio Entrata Cioè uno entra a casa tua Mentre tu stai streamando Sì se Apro una porta Si sposta il separee Perché chiaramente Devono entrare E se bussano la porta Si sente dalla live Che stanno bussando Quindi se ora tu Mi dai il tuo indirizzo Su whatsapp E io ti mando tipo un globo Da farti consegnare lì Letteralmente Il rider Se vi arriva a casa tua Apre e si vede Tu lo saluti proprio Tu lo saluti in là Dai possiamo provare Non credo Ti offro pure un globo gratis Polca miseria Ma grazie mille Ma non accetto Va bene Va bene E E vorresti andare a vivere da sola? Beh ora Sì sì sto cercando casa Sto cercando casa Dove la stai cercando? Sempre a Napoli o ti sposti? Sempre qui perché Allora in realtà Io sono un caga sotto Quindi ho paura di vivere da sola Noo E quindi Sì Quindi preferisco stare vicino ai miei genitori Così Qualsiasi cosa Cioè preferisco Preferisco farmi i primi anni Che sono vicino i miei Poi mi abituo all'idea di stare da sola E vado via Però non vorrei abitare qui Perché Cioè preferisco più il nord Proprio nord nord diciamo Certo Certo Giusto 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 Ma si sta E Come ti trovi con Gianmarco? Bene dai Beh per lui ogni tanto Insulta per gag Non ti offendi tu? Sei mai arrabbiata con lui? Insulta Insulta non mi ha mai insultato Ad essere sincera Magari insulta altre persone Almeno Non mi ha insultata Magari sapendo che mi dà fastidio Non lo fanno Non lo so Però non ho mai sentito insultare No non sono permalosa Cioè non Non è che se Dipende da come No non mi guardare così Non sono permalosa Dipende Dipende da cosa Da cosa dici chiaramente Cioè se sono cose che Mi toccano personalmente Mi dà fastidio Però non è che Cioè insulti dipende Che cosa intendi Se fai la tipica cosa Ah sei napoletana Rubi Cazzo mi frega Cioè dipende da cosa dici Secondo te Cioè quelle robe Che se io ti prendessi per il culo Su quelle robe Ti incazzeresti? Allora non è che mi Mi dà fastidio Quando una persona Mi prende per il culo Mi dà fastidio Quando appositamente Vengono messi in mezzo Di discorsi Che a me Si vede Ed è evidente Che mi danno fastidio Cioè tipo parlare Di cose sessuali Mi dà fastidio Cioè io evito Cioè non parlo Della mia vita privata Del ragazzo Figurati se parlo Della mia vita sessuale Quindi se tu parli Sapendo Cioè cerchi proprio Di capire le cose Sessuali mie Private Nonostante tu sappia Che a me Mi dà fastidio Parlarmi Parlarmi Mi dà fastidio Perché non stai facendo apposta O parlare proprio di te Cioè affrontare una live Con una Tipo Una No ragazzi Per favore Queste cose Togliete Eh Basta Stavo dicendo Cioè tipo una live A tema sessuale Nel senso che c'è Una psicologa No non mi dà fastidio No non mi dà fastidio Quello Vabbè Quindi vabbè Non è che Ti chiederei Le tue posizioni preferite In un'orgia Voglio dire Eh oddio Ci sono state Occasioni In cui mi è stato chiesto Non in un'orgia Però mi è stato chiesto E ti sei incazzata Non ho risposto No no Mi sono incazzata Però non ho risposto E questo non rispondere È il risultato Come diciamo Sentirmi superiore Beh ci sta È giusto Vabbè però non è così Ma com'è giusto No no vabbè giusto Che mi sento superiore Vabbè è giusto sentirsi superiore Cioè Vabbè io non mi sento superiore Eh ma bisogna Fare questo lavoro Bisogna sentirsi superiori Se no Cioè la prima cosa È credere in se stessa Tu non ti credi superiore a Non lo so Una che fa pool streaming No No Semplicemente penso che Ognuno abbia il suo modo di fare Cioè perché mi devo sentire superiore Magari è anche molto più intelligente Di me Quella persona No no Non è così Intelligenza Però dico Cioè a te non ti dà fastidio Tipo magari Vedere che una Che è giusto per care Tette di fuori Fa più spettatori Magari di te Che porti il tuo contenuto No anzi È intelligente Magari sono io stupida Cioè Va bene ok Eh allora Perché mi dovrei sentire No Comunque non mi sento superiore Ti possa girare il cazzo Cioè io Io se fossi una donna E cercassi di fare un contenuto Comunque Che non si basi Sul mio aspetto fisico E vedo che comunque Nonostante magari Porto un bel contenuto Ci sono ragazze Che basta che fanno vedere il culo Hanno il doppio di spettatori Un po' probabilmente Mi girerebbe il cazzo Allora Ti dico la verità A me non dà fastidio Quando vedo persone Che mi strano il culo E fanno più spettatori di me A me dà fastidio Quando le persone Che arrivano nella mia chat Pretendono che io faccia lo stesso O comunque Mi accusano di Mettermi in mostra Per avere numeri Quello mi dà più fastidio Piuttosto che vedere una ragazza Che si mette nuda Sui social E fa numeri Cioè che cazzo mi frega Ognuno fa quello che vuole Io faccio i miei follower Per i miei contenuti Boh Follia Vabbè Vabbè Comunque Aspetta vado un attimo A prendere l'aico Perché ho proprio bisogno Di Vai 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 Ti metto a tutto schermo Se vuoi dire qualunque cosa Puoi farla Va bene va bene Ok ok Ma dove cazzo Sono finita Aiutatemi Aiutate Devo dire che mi son sentita male Vi do il mio numero Eccomi Kasumi Sono tornato Eccoti qua Ma Ah no Ve l'ho chiesto una roba importantissima Non scappare Dai No no Non scappo Ma scappa quando Ma tu fai anche ASMR ASMR Lo facevo prima Ma lo facevo Soltanto con suoni Diciamo Di oggetti Non lo facevo Con la bocca Se fosse così Ma aspetta un secondo Io allora Considera che io Faccio live da tre anni Tu hai iniziato quanto tempo fa? Due anni? Uno Due anni fa Ok io mille volte Mi è capitato tipo Di fare la roba Inizio live dove vado a vedere Tipo quelli che sono in live Così e provo a tirarli in mezzo Potrei averlo fatto anche con te Sicuro L'ho mai fatto Mi hai visto qualcuno Tipo Greenbook ti specta O entra E tu ti dici Che palle La prima volta che mi hai chiamato Mi stavi guardando Ah già Però eri Mi ricordo questo sfondo Sì Ma io ho sempre avuto questo Cioè non sono mai stata senza Cioè soltanto proprio Le prime due live Ma poi l'ho comprato E lo sono messo Ma scusami Allora Scusami un secondo C'è una streamer Un po' simile a te A livello un po' di postazione Capelli forse Perché io mi ricordo Non lo so C'è una ragazza Che è la mia stessa Il mio stesso Se parecchio Scusa Tu hai mai fatto Cioè Sei mai stata invitata Da Kokeshi Fate robe insieme Spesso Sì 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 Ok E c'era una volta Che tipo Kokeshi Che io gli avevo detto Tipo no no ma lei Io gli sto sul cazzo E però non era vero Forse non eri tu Era un'altra O in realtà mi avevi mentito E ti stavo sul cazzo Ma non me l'avevi detto In quel momento Sto svalvolando Mi sa Non ne ho idea Cioè non lo so Se non lo sai tu Io non c'ero Kodomo Kodomo Ah ok Esatto era Kodomo Ah lo stesso se paree Anche lei Non lo so Fatto sta che io Kodomo L'avevo scambiata per te Ah ok Perché io ho sempre saputo Che ti stavo sul cazzo Ok Cioè nel senso che Mi ricordavo questa postazione Non lo so Mi ricordavo che c'era una donna Su Twitch Con uno sfondo di questo tipo A cui stavo sul cazzo E quindi io poi Ecco che c'è inventato Kodomo Mi ha detto Guarda che a Kodomo Io sto sul cazzo Cioè non mi vuole neanche vedere E lei ha detto Guarda che non è vero Kodomo entrai là E fa Guarda che non ho niente con disano Non sapeva neanche chi fossi E ho detto Scusa Kodomo Hanno sbagliato E adesso ho beccato te Che effettivamente Stavo sul cazzo Vabbè non è che mi stai sul cazzo Mi volevi vedere morto Affogato Distrutto Mi sembra veramente too much Voglio vedere nessuno Così assolutamente No però diciamo Che se ci fosse stato un pulsante E potevi salvare La vita di un cane qualsiasi O la vita di Grimbaud Mi sa che non è cambiata Uno ci pensa dai Non è cambiata la scelta Neanche adesso Da questo Da questo sorriso No dai sincero Un pulsante devi salvare La vita di un cane a caso O la mia Dai No veramente Vabbè ma scusami Vabbè uno ci riflette Ma come ci riflette Ma un cane qualsiasi Magari ne becchi uno Che per strada Già mezzo morto E io so che sei che sono io No vabbè Sei mezzo morto No no Non lo sai Uno a caso Uno proprio Un generatore Di caso Faccio fare Prima un esame Per capire se è mezzo morto Ho capito Ma io sono vivo vivo Intero Vabbè magari pure il cane Vivo vivo Vabbè ho capito Non è più importanza La vita di un cane Che non conosci Di una persona Che comunque Con cui stai anche chiarendo E avendo una cosa Non è che col cane ci parli Vabbè ho capito È così Non è che può andare Tutto come credo Mamma mia Io ho già capito Cioè probabilmente Se mi dicessero questa cosa Tempo neanche Di sentire la seconda opzione Prendo una pistola Viene a casa mia Mi fucila Probabilmente Senza neanche sapere Qual è l'alternativa Cioè Pazzesco Ovviamente Casumi Io pensavo che stessimo stringendo Non dico rapporti di amicizia Ma un rapporto almeno Di rispetto Ma mica questo vuol dire Che ti salvo In questi casi Cioè Rispetto Cioè rispetto No ma ci mancherebbe E quando facevi ASMR Che cosa è che Facevi con gli oggetti Ora non fai più ASMR Hai tipo il microfono Con le orecchie Sì 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 Ho il microfono con le orecchie Però facevo tipo con gli oggetti Non mi è mai piaciuto fare Queste con la bocca Oh Jody No ero passato solo Ciao Eccolo eccolo No 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 tu non c'entri Che cazzo Già lo so che vuoi dire Ciao Jody non c'entri Mi spiace una conversazione Se vuoi dire qualcosa Vuoi dire qualcosa Vai vai dici dici No in realtà Mi stavo solo preoccupando Se fosse tutto ok È tutto a posto È tutto a posto No prima è passato in live A dirmi che non ti dovevo trattare male Cosa? Jody? Sì Ah no io Ah sì è vero io Ma che provolone Mamma mia Jody Ficcio per volentare Provolone Letteralmente io Che sono andato a dire Ti stavo salvando Stavo cercando di Siccome io sono stato in live Con lei Quando hanno fatto La ufu E c'eri anche tu Quando sei arrivato a te Ha fatto mamma mia C'era tipo il peggior streamer d'Italia E te E aveva detto Peggior streamer d'Italia Sì 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 Ma proprio Ma c'era andata dritta E aveva detto proprio No ma è Grimbaud Ti giuro Non ce la posso fare Cioè però proprio Non ce la posso fare Sono gusti Per questo Sono gusti Per questo che è Sono gusti Ovviamente Credo una gag No giuro Questa roba è giuro Sì sì Porca vacca Ma casumi Ma questa cosa è terribile Scusa Sono gusti Non accetti I gusti altrui No ho capito Ma micchia Definimi il peggior streamer in Italia Quando in una piattaforma No Non ho detto questo No ho detto Che c'era Uno streamer X Che non mi ricordo Però sicuramente Che non piaceva a nessuno E poi c'era nessuno E lei è l'unica Che ha detto Quello streamer Al posto di te Ma è una cosa Veramente Ma ho detto Scusami Cioè doveva stare da solo Senza voti Cioè mi sembrava Comunque opportuno Votarlo Certo Certo Effettivamente sì Effettivamente ci sta Vabbè Giusto così Io vorrei fare Aspetta vediamo se Va bene Grazie Sottolineiamolo Marcatamente Aspetta vediamo Ok non c'è in chat Vabbè vado via Scusate Ciao Ok vabbè vai via Vabbè tanto di male Nel backstage Oh facciamo uno scherzo A Manux Perché a Manux Io prima gli ho detto Guarda che oggi C'ho casumio Paura Che magari si offende Per qualcosa Simo scusa Guarda nel backstage L'autenticazione Del mister Z Va Autenticazione effettuata Con YouTube Emanuele Ma non è lui Non è lui però Ah no È uno Che apposta Ha fatto un canale Che si chiama Emanuele Nocera Ducera Ducera L'ha fatto Ha fatto Emanuele Ducera Solo per fare in modo Che io controllassi La sua autenticazione Su Streamyard E vedessi Ducera Oh mio dio Cioè bro Usciamo di casa Non lo so Faccia qualcosa Ma hai veramente Scammato il link? Sì no Non io Io l'ho scammato Io l'ho scammato Comunque a prescindere Dal link Oh io voglio fare uno scherzo A musico Che ora Tipo lo chiamo E tipo gli dico Cioè Cacazumillaio Che mi chiami Ti deve insultare Sto esagerando Così Entra Manuxo E tu tipo Presa malissimo Dici no ma Non è cambiato di un cazzo Così proprio E io dico Manu non so cosa fare Ho fatto un disastro Posso anche insultarti nel mentre? Sì aspetta che alzo il volume Delle casse Però Non Cioè devi essere realistico Cioè devi dire tipo Mi chiamo Fa la gag di Manu Fa Chiamo Manu Mamma mia Amo esco Mi sono toccato Tipo così Ma si sente quello che dici Ah ma è da Gianmarco Manu? Non lo so Eh non lo so nemmeno io No Vabbè Eh vabbè Porca vacca Niente gag Cos'è che pensi di Rubino? L'ho visto poche volte Cioè Le sue labbra Non so qualcun altro Soltanto una volta No non erano Nessun altro Stava facendo GTARP Quando l'ho visto io E mi piacevano le live Che faceva di GTARP Quindi Che tu sei una Una fan di GTARP? No Infatti strano Perché L'unica volta Diciamo che Ho detto Sempre interessante Era nella sua live Poi vabbè Ho smesso di seguirlo Ok ok Ci sta E qual è il tuo streamer preferito? In realtà ti dico Allora non ho uno streamer preferito Ho uno streamer con cui Mi trovo meglio Ok cioè Perché anche Allora io Per trovarmi bene Con una persona E fare più spesso Live con quest'ultima Devo trovarmi bene anche Diciamo Proprio Umanamente Umanamente Esatto Ed è Hank Non so se lo conosci Si chiama Hank Godo per me Possiamo rimanere anche così Porca di quella puttana No è simpatico È anche simpatico Ma vabbè Fare la live di programmazione E che c'entra? Non mi fa solo quello No vabbè Hank è Una persona Molto brava Però c'è Aspetta Prendonci chiaro Da quando è che siamo In live assieme ora? Da? Quasi un'ora Paradossalmente Passato il tempo È velocissima Obiettivo Oh Aspetta Mi sa che Ho andato una foto Ah Mi ha in mano Una diarreona Adesso troppo corrisponde Una diarreona? Sì sì Ricordati questa gag Cioè quando chiamerò Manuxo Non rispieghiamo sta gag Perché magari lo sta prendendo la live Quindi Non rispieghiamola Quando chiamerò Manuxo Sai che c'è quella roba lì E Cosa stavo dicendo? Ora che è passata un'ora Sì È in chat Ora che è passata un'ora Cioè io sono una persona Che dici Dai Non sono così male Con cui parlare Cioè sono una persona piacevole Sincera Allora ti dico No ti dico la verità Io sono sincera Non mi faccio problemi a dirtelo Non sei una persona Con la quale farei spesso live Cioè Non sei Come mi aspettavo Prima Ma può darsi che Se entravo prima Eri un'altra tipologia di persona Non sei quindi Tutto sto male Però allo stesso tempo Non sei una persona Con la quale Capito Starei spesso in live Non mi trovo proprio così tanto Bene Non hai il mio Non hai un carattere compatibile Con il mio Ma più che altro Lo sai che cosa Non sopporto di te C'è una cosa che mi dà fastidio Che mi fa dire Boh non riesco a trovarmici È il fatto che ogni cosa che dici Sembra un po' paraculo Cioè sembri che Sembra che prendi per culo All'altra persona Vabbè ma non è vero Che stai a percezione Ho capito È questo il Capito la cosa Che percepisco Ma stiamo parlando di puttanate Non è che stiamo parlando di argomenti Ho capito È quello che percepisco Che ti devo dire Cioè sembra che Ogni cosa che dici Ma tipo fammi un esempio Non è che ti posso fare l'esempio adesso Però dico in generale Sembra un po' paraculo Come ti posso dire Paraculo? Ma non è che stiamo affrontando un discorso Dove mi devo parare il culo Parlando di cazzate Ma non sto dicendo Non è che devi fare il discorso Dove devi parare il culo Semplicemente Il tuo modo di fare È da una persona che Butta il sasso E nasconde la mano C'è capito Si tira sempre indietro Cioè non sei mai sfacciato Che dici le cose Sei sempre lì Che ti nascondi Oddio Questa è l'impressione che mi dai Proprio essere una stronzata Perché è la prima volta che ti parlo Tanto può essere che è così Cioè dai questa impressione a me Kasumi Sen Poi che cazzo te frega Cosa ti frega Mi interessa lo primo di Kasumi Sen Eh Kasumi Sen dice questo Vabbè no ci sta Vuoi vedere cosa dice Jody Jody Adesso gli darà ragione Perché la ama Vediamo No ma niente Mi sembra veramente too much Vediamo No però Simo È una cosa che ti ho sempre detto anch'io Perfetto Levati dal cazzo Non sparisco la mia vita Ma guarda Kasumi hai fatto il disastro dell'anno Ti giuro Jody guarda Non hai mai detto una roba del genere Povero Jody No Simo Io ti ho detto che hai un atteggiamento Nei confronti degli altri È un atteggiamento Come se devi sempre dimostrare Tipo Ah sì Tipo Anche nei periodi in cui Eravamo dei mostri Ah perché non è così Solitamente No allora Nei periodi in cui Andavamo in discoteca Io e lui Il suo approccio A qualsiasi essere umano Era sempre come Ma cosa cazzo c'entrano le discoteche Sono l'erce ubriaco Che non so neanche camminare No però C'è il green mode in discoteca E il green mode nelle live Il green mode nelle live Quando si approccia a altre persone Ha un po' questo fare Ma è un feedback Che appunto Ti dà lei Ed è una sua percezione Esatto Se il 95% Di altre persone Che ti hanno conosciuto Ti vogliono bene Ti amano E farebbero di tutto per te Vuol dire che evidentemente Ognuno ha una percezione diversa La maggior parte della gente Speriamo Dio Ce l'abbia come Non come Kasumi Ecco Però evidentemente Se Kasumi ha questa percezione Non è che è totalmente pazza Però ci sono delle caratteristiche Che Anche delle persone della chat Tranne Mr. Kezla Che ha detto Vai a cia poi ratta Kasumi Perché ovviamente Mr. Kezla è così Cioè dicono che Che è vero Che è un po' questo atteggiamento Che non è di superiorità È di tipo Adesso devo per forza Far qualcosa Che intrattenga Che faccia ridere Quindi anche in un discorso Ah ok Ok Allora va bene Allora dovrebbe conoscerti Nella vita privata Ma no Per rivalutarti Allora no Che io sia una persona Che Cioè Che abbia un carattere Molto forte Che Tende a cercare di prevalere Ma cosa? Ma ho detto forte E non che sono un grande Porca puttana Ho detto con carattere forte Potrei essere anche una testa di cazzo È un carattere forte Bravo coglione allora È un carattere oggettivamente Forte Cioè tendo a Nella mia testa Cerco sempre di prevalere Ok Per mia Per mio Carattere Cioè Fin da piccolo Cerco sempre di essere Quello che è Leader delle cose È un cazzo Ma se ho fatto così Cosa devo fare? Ah beh certo Ma infatti io Non mi capisco Che devi cambiare Tu mi hai detto Io cambierò tantissimo Kasumi Io da domani Sarò un'altra persona Dopo questo che mi hai detto Vedi Ecco Questa È una frase È un cazzo Di gatti E vabbè Però capisci che Questa comunque Rientra nella serie Di frasi Questa esagerata Però che possono Dar fastidio a qualcuno Che è già un pochino Prevenuto su di te Perché se Kasumi Ti ha visto che Chiedevi alle ragazze Se fanno una cosa O fanno un'altra Cioè È normale che Già ha quell'idea di te Poi ti vede Che hai degli atteggiamenti Del genere Fa uno più uno È normale che Se vede Il gattone sul tubo Greenbound Dice che il gattone È meglio Capito Ma guarda Il problema è che Stiamo parlando Con una ragazza Che Cioè Se deve scegliere Tra la mia vita E quella di un cane a caso Mi prende la pistola E mi fucila nella bocca Capito Cioè Che è la classifica Dei peggior streamer In Italia Ma a prescindere A prescindere Comunque Non puoi piacere a tutti Cioè Sono d'accordo con te Che sei fatto così E va bene Cioè Non dico che sia sbagliato Ma se tu chiedi Un giudizio a me Io ti dico che Per me È così Cioè Mica devi cambiare Ho reagito in maniera un po' Istintiva E sono anche una persona Un po' permalosa Cioè Effettivamente Ecco perché mi dicevi Che io Mi stavi chiedendo Se fossi permalosa Perché io sono permaloso Cioè Obiettivamente sono una persona permalosa Cioè Poi vabbè Non è bello sentirsi dire Ma si sta Ti trovo effettivamente chiesto Però non è bello No ci sta No guarda C'è la verità Non mi trovo bene con te È brutto da ricevere Lo posso dirlo Certo Vabbè certo Sicuramente Ma come magari Non tutti si trovano bene con me Cioè Chissà quante persone pensano che Io mi trovo bene Eh ok Però dico In generale Magari ci sono persone Che non si trovano bene con me Ma tante pure Comunque non è che io credo Di essere perfetta Anzi Io mi trovo tanti difetti Però Comunque proprio per questo ti dico Questa è la percezione che ho avuto Io non è che mi reputo perfetta Io sono piena di difetti Però Se tu mi chiedi ovviamente Che percezione ho avuto Io te lo dico sinceramente Senza che devo girare Capito Vabbè però Tornare le cose La domanda che ti faccio Secondo te è questa percezione Ecco facciamo così Finirà questa live Ciao ciao Kasumi Ciao Green Bene Nuovo Green Che bello Passa una settimana Ti dico Kasumi Faccio un format Con un po' di persone Tutte persone che conosci Bravissime Che esci Gioe Comunque così Ti invito Tu È molto facile cacciarti Oppure no Sei un buon format No no Se sei un buon format Vengo La cosa che ti voglio far capire Non è che Ti evito Come la peste Semplicemente Non mi trovo particolarmente con te Come mi trovo con altre persone Però Non sei l'unico Magari potrebbe cambiare Cioè secondo te Magari potrebbe cambiare Con il passare del tempo Se effettivamente Noto di trovarmi Però dipende Capito Se sei così Come mi sei parso Capito Non mi ci troverei Punto Tipo con Gioe Ti trovi bene? Gioe mi trovo bene Sì Però Anche lui Non ha un carattere proprio Affine a me Capito? Ok Cioè non sei l'unico Quello ti voglio far capire Non sei l'unica persona Ok Con Gianmarco Blur Con lui mi trovo meglio Cioè mi trovo meglio Comunque Non lo conosco benissimo Anche perché Di solito facciamo live Insieme agli altri Quindi ho avuto modo di parlare Come ho parlato con te Però Mi trovo bene Manuxo? Manuxo pure Anche lui Ti devo dire Non ha un carattere troppo Affine al mio Anche lui Con Kashi Siete uguali Non uguali Però Io con le donne Mi trovo sempre bene Con Amurant La migliore amica Amurant La conosco Posso fare una domanda Cioè anzi no Posso fare un'osservazione Secondo me Kasumi fa anche riferimento A questo tipo di live Cioè nel senso Se Kasumi venisse In una live Dove siamo in 5-6 Ed è una live Dove facciamo un gioco Un format È una cosa diversa Che ritrovarsi In una live In due Come per esempio Quelle che in cui fa Hank Cioè quelle che fa con Hank Dove magari Sono insieme Che fanno determinate cose Sicuramente L'approccio è più diretto Quindi è quello a cui fa riferimento lei Se mi dovessi dire Facciamo una live a settimana Dove Facciamo 1, 2, 3 cose Cioè lei non si troverebbe bene Ma se la inviti Ogni tot Con altra gente Non c'è nessun problema Vabbè ma Cioè comunque Anche quando ho iniziato A fare live con Kokashi Non è che è la prima volta Che mi ha fatto live con Kokashi Subito già Cioè nel senso Si è dovuto creare il rapporto Per poi magari Avere quella sintonia tale Da poter fare le live Anche da soli Cioè ci sta che ora Lei magari non farebbe mai Sì ma io No sono d'accordo Però comunque Non voglio giustificare Ti ci devi trovare con quella persona Certo Se ti ci devi trovare con quella persona Sì sì è vero Sennò non ti viene proprio Di conoscerla in più Mi continuo a dimenticare Di essere una merda No 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 Vabbè si sta autoinfliggendo adesso Sì Io siccome ti conosco Adesso tu Tra le tue cose mentali C'hai anche quella di In qualche modo Conquistare la fiducia Umana di Kasumi È vero Tra l'altro Io non voglio fare Non voglio fare un riferimento Ma un paio di persone In chat l'hanno scritto La sua attuale ragazza Kasumi Devi sapere che È stata l'unica Che è entrata in live da Simo E proprio gli ha detto Mamma mia Tu non mi piaci per niente Non ti voglio mai più vedere Non ci starei mai con te Ma cosa c'entra? Ma che cazzo di esempio è? No è un esempio Cansante Poi ti ha conosciuto bene Ti ha conosciuto bene Addirittura si è innamorata Follemente di te Non è che è il mio tentativo Di far innamorare Follemente Kasumi Cioè Però Il concetto è che Effettivamente Vabbè Nel senso Vabbè Lo so Io guarda che Quando ti ha detto Quelle cose Io l'ho vista Nella tua faccia Non tanto la cosa Del F No Rip Oddio Un uomo caduto Cioè vedevo Nella tua faccia Comunque che In generale Anche nella vita Di tutti i giorni Avere una persona Che in modo diretto Che tra l'altro Non è da tutti i giorni In modo diretto Ti dice Sinceramente Io per come Ti ho conosciuto Per adesso Non è che mi trovo Sulle stesse frequenze Sulla stessa lunghezza d'onda È una cosa Che può far male Effettivamente E poi non ti ha detto Che sei una merda Fai schifo Cioè te l'ha detto L'altro giorno Ma oggi Cioè comunque Davanti a te Ha detto che Cioè che semplicemente Ancora Non si è allineata a te Perché a quanto pare Sente che siete Dei caratteri diversi Posso Reactare insieme a voi Alla clip Del Wufu Perché non l'ho vista Voglio vedere Non so se c'è la clip C'è la clip Se qualcuno può Mandarla in chat Gentilmente Jody tu che sei Esperto di clip Se riesci a trovare Esperto di clip Qual è Esperto di clip Questa Ma non credo che ci sia Una clip Dai non era Clippabile Come cosa Cioè ho semplicemente Detto che Il titolo è L'abuso a Grimbaud No perché È una live lunghissima Ma abbiamo detto Cioè dove c'era Un botto di gente Vabbè dai Te la troviamo Poi Vabbè Voi chiacchierate Allineate le vostre frequenze Intanto trovo Allineate le vostre frequenze Addirittura Allora aspetta Jody Scusa se ti tolgo un attimo Perché ho bisogno Proprio di sentire La Vai La sua voce è liva La sua voce è liva Ok Intanto Jody Si riesce a cercare La clip Comunque Casumi Non voglio ovviamente Convincerti del fatto Che io sia Una persona Cioè con cui Tutti debba trovare bene Però vabbè Comunque siamo qua In live assieme Quindi Chiacchieriamo No Certo Senti E il tuo cibo preferito Casumi Il mio cibo preferito Allora Aspetta tu ti chiami Roberta No Emanuela 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 Come il duce Cioè du c'era No c'era No c'era Ok Non ho un cibo preferito Perché mi piace tutto Però se devo Diciamo Una giornata Scegliere Cosa vorrei mangiare Forse direi Come si chiama La pasta allo scoglio Linguine Quella lì con Linguine allo scoglio Linguine allo scoglio Ci sono spaghetti Sì sì Linguine allo scoglio Qualsiasi sia Linguine Spaghetti Basta che c'è uno scoglio dentro Cioè che ci sia Il concetto Sì esatto L'importante è che ci sia lo scoglio Ok Il tuo Il sushi Sì Certo E il mio è il sushi Io se devo scegliere Scusa A tutti gli italiani Ma se devo scegliere Tra un buon sushi Una buona pizza Sceglierò sempre Il sashimi al salmone Quindi il sushi Minuto 42 e 28 Te l'ho mandato in chat qua Dov'è? Oh dio Aspetta Eccolo Minuto Minuto Scusami 42 e 28 Ma quello lì è il minuto Proprio dell'abuso Quello totale? Sì Ok ok Ma secondo me non ha così esagerato Ma questa è una tua live? Eh ma perché eravamo in live tutti insieme 42 E 28 42 Ok Sì sì Vediamo Secondo me era una Si potrebbe andare in parità Quindi secondo me Era Mr Flame l'altro Però I capelli ci sono Ma allora Remendo Grimball contro flame Con flame intendiamo il cerbero No Mr Flame Penso che siano separati Ah solo lui Sì sì Ok Io non lo conosco Mr Flame Vabbè Per me Grimball Io A me Grimball Io mi astengo No mi astengo Da questa scelta Perché? Vabbè S'ha stenuta Non è stata cattiva Io non lo conosco E Grimball non mi convince troppo Vabbè Educata Ok Eh o è onesto Ai 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 Vabbè Io qui Io qui Do un'aggettività mia Dico Grimball Per esempio Per quanto mi riguarda Anche Grimball Sì Semplicemente perché Mr Flame L'unica Oh però vedi Ti hanno scelto tutti Tanni io Magari sono io la stronza Sapito? Quello ti dico Ma non sei sta stronza? Eh sì No ma no Che ti frega Era quello che con la maschera Vabbè basta Non era diventato di grave Basta no Forse dopo Anche questo era Vero? No no Quindi Grimball vince Jody Ma io non esagerò mai No io Grimball Mi astengo per il Per la cosa contrae di Kasumi Che siccome voglio troppo bene a Simone Non posso dare un giudizio Troppo easy Ok Comunque Guardarla anche senza le mie amicizie Oggi ti guarderei più mai Infatti io lo dico perché Mi piace come content Sì ma domanda così per capire Dopo Turno dopo sono uscito? Sì Contro? Quindi poi alla fine T'hanno tutti Contro chi sono uscito Per capire Aspetta che vado a vedere Ti prego Ti prego Vabbè prima o poi dovevi uscire Diciamo Contro chi sono uscito? Eh sto cercando Merda Eh ma è difficile Perché era lunga Figa Che team 2 Non me lo ricordate Eh? No Vabbè sarai uscito contro Qualcuno di più Dai Forse è Zano No 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 Si esco contro Zano Contro Marza Blur Sì ma era uno più No me lo accollo No era uno più forte Voi lo ricordate raga In chat Era uno più forte Complimenti bellissimo No Contro Xuder No Mi accollerai anche Xuder O Masseo Ah forse il Masseone Sì forse il Masseo Vabbè per storia Me lo accollerai anche quello Vabbè ma la maggior parte Strive Cioè comunque Già lì era un pochino più avanti No non lo trovo È veramente infinito Ah no contro Hank Figurati Contro Hank è uscito? Sì Vabbè E tutti hanno votato Hank tra l'altro C'è da dire dai No Mars ha votato te Manume spero E anche Kokesh ha votato te Tu Ma io che vuoi che abbia votato Vabbè Kazumi Figurati Il peggio e il meglio Insieme confrontati Ma io mi trovo bene Il peggio e il meglio Eh sì Obiettivamente Vabbè comunque Aspetta che provo a risentire un attimo Manuxo Vediamo se Si è finita la sua tragica cagata Aspetta Ricordati Kazumi Zio sto facendo un macello Che è succedo? Eh c'è un Non so che Sto esagerando in live Poco ho bevuto anche un po' C'è Kazumi che Cioè mi sta tipo odiando E non so neanche più cosa Cosa fare No non è vero Mi sto trovando benissimo L'ho detto Ma è perché Ho fatto delle domande Le domande sul sesso Tipo Non pensavo che si prendesse male L'ho chiesto tipo Robo sullo sperma Così Sei incazzata No dai Non è vero Eh si zio Cioè ora È qua che sta tipo urlando Mi sta impazzendo Dice mi chiamo Me ne vado Viva il duce No Simone Cioè io ormai ti conosco Con me questa gag Non la puoi fare Cioè io So cosa succede Nette live Cosa sta succedendo zio? Ma poi conosco Kazumi Non urlerebbe mai No ma sta urlando tipo ASMR Cioè con gli oggetti Perché lei non lo faceva con la voce Ancora peggio Simone Non è credibile Ma te lo giuro Guarda che sta impazzendo È completamente fuori di testa Guarda se ti alzo Ora alzo il volume delle casse E la sentirei urlare Aspetta eh Oh scusami Kazumi Sì sì Alzo il volume delle casse Sto benissimo Lascialo stare Stai dicendo tutte stronzate È la sindrome di Stoccolma Non sta bene E quindi si sta Ho alzato le casse E poi io Adesso ho perso la sua live Perché ho di nuovo internet E le fai uno sguardo a miccante Per dirle Dai grida Cioè Ma non ho fatto uno sguardo a miccante Ma che cazzo di miccante è? Miccante è un'altra cosa Sì vabbè Hai capito Dai Per farla guidare Va bene Per la paghe del cazzo Ovviamente No 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 Per carità di Dio Va bene Dai ma non fa niente Allora Dai Ma rimarrò Dai ma veramente Come Ti odia ancora? No Eh sì zio Tu non ci credi Non ci credi quello che dico Lei adesso Vuole fare la gag Che dice così Va bene Però Fatto sta che Abbiamo litigato fino adesso Cioè avevo bisogno di te Però Tanto Cosa devo fare Va bene Eh io Ho paura No 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 Zio Perché La stai trattando male Eh Oggettivamente è così L'ho chiesto qualunque Sua posizione sessuale preferita In mille modi E lei non vuole rispondere È un casino No non faresti mai Una roba del genere Zio Io Non posso Non posso smidirmi No 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 Non ci credo Ti stai comportando bene E Kasumi tra l'altro Si sta ricredendo Un pochino Forse un pochino Va bene Va bene Dai Ciao zio No però Dai Cioè me l'avevi detto pure oggi Fai il bravo Beh zio Io le mie domande le devo fare Mi spiace ma Abbiamo firmato un contratto con ANC ANC sai cosa vuol dire? Ma ANC non impone Di fare delle domande Come no? No no Come no? Ma no ANC Anale non cazzo Vuol dire Non vuol dire questo Assolutamente sì Vabbè comunque zio Vabbè Vabbè Credi quello che vuoi Dai Io Confido in te Che hai fatto Vabbè Va bene Dai Ciao Manu Ciao Ciao Simo Ma cosa fai? Posso dire che sono molto Sono molto carini Le persone che ti seguono No Beh ma Sono deficienti No no Ascoltami No ascoltami No no Ti stavo perdendo un'altra cosa Ah sì ma non ti odio Sono un sacco carini Perché cercano di Aiutarti Cioè nel senso che Sono venuti da me E mi hanno detto Scusami Kazumi Se ti interrompo Vai vai vedi 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 Pronto 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 Ok Va bene Dimmi tutto Ci sta Dicevo Mi hanno scritto Secondo me ti sembra Parare culo Perché così Ti conferma La tua teoria iniziale Ma se lo vedessi Da un punto di vista nuovo Magari avresti Un'altra impressione Ah sono molto carini Ma questo è un messaggio Molto sensato in realtà Sì però Una cosa che volevo dire È che Non sono così Cioè non è Il mio modo di essere Non Cioè Io quando ho un'impressione Di una persona Pure si appelle Quando poi la vado a ricordare No dico Magari Neri e bianchi Siamo tutti uguali Ok è vero C'è ragione Anche se è una sensazione A primo impatto Va meglio Ok A primo impatto di quella persona Però quando poi la conosco Effettivamente È come se mi Annullassi il pensiero Che mi sono fatto inizialmente Per poi capire Come è la persona Io non ho mai detto Che tu mi stai sul cazzo O che non ti sopporto Dico semplicemente Che questa è l'impressione Che mi stai dando Quindi Semplicemente Volevo spiegare È ancora un genuglio È ancora un genuglio Eh sì Ma ti ripeto Cioè non è una cosa sbagliata Io non voglio farti capire questo Non è una cosa sbagliata Che una persona ti vede così No 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 Non esiste niente di sbagliato In un'opinione Ma poi Farti conoscere da una live Cioè No 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 È effettivamente Insomma È effettivamente difficile Magari Magari stai tenendo il tuo personaggio E io non lo posso sapere Vabbè Quello sicuramente Cioè non sono E allora Come faccio a capire effettivamente Come sei E apprezzarti per quello che sei Se tu stai nascondendo la tua persona Cioè oggettivamente parlandolo Non ha senso Scusami a caso No Ok Voglio che tu mi faccia delle domande Che vuoi tu Che in base alle mie risposte Puoi magari dare Cioè non so Le domande che fareste a una persona Per conoscerla meglio Cioè per capire se puoi essere Una persona allineata Con il tuo carattere Che domande faresti Così capiamo Se le mie risposte Ti possono piacere Risponderò Non da Grimbo Ma risponderò da Simone Ok Allora Dimmi tutto Ti dico Ah proprio Se dovessi farti delle domande Ora Cioè non mi vengono in mente Delle domande Anche perché secondo me Conosci una persona Anche parlando Certo Cioè parlando Ti escono Però mi chiedevo Sputo in gui Kasumi Sen Scusa volevo Ok per capire Ma sei completamente impazzita L'acqua Cioè quando vai dal dentista Ah gli ha sputo Gli ha sputo tutto in bocca Ma certo Ma certo Ci sta ok ok Va bene va bene No ma non ci voglio dal dentista Sono tutti dritti i miei denti Ah beh Mica ci vai solo per quello Dal dentista Scusa Beh ma Per cosa ci vai Sai le carie A una certa età Per cosa ci vai Io ci vado Per fare la pulizia dei denti Mi fa bene così Io sono team denti gialli Da sempre per sempre Assolutamente Va bene va bene Comunque è sputo Sputo Ok Meno male dai Anche perché fa male ingoiarlo No fa male è brutto Cioè è così Cioè è colluttore Che ti danno È brutto Devi sputarlo Ah sì 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 Se lo in voi fa schifo Sì 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 Basta Ma tipo Pronto Va bene Che vita di merda Devo morire Allora scusami No Scusami Kazumi-san Veramente Comunque A presidere da Da questi ragazzi Molto divertenti Che mi stanno chiamando Perché ormai il mio numero È praticamente pubblico Però va bene Ce lo accogliamo E a parte la domanda Che mi hai fatto Si sputo in goio Una domanda invece Che mi faresti Di una certa caratura Di una certa elevatura L'inclinazione spirituale Quale sarebbe Il primo approccio Che avresti Con una persona Appena conosciuta Allora Però Trasciando le live Cioè al di fuori delle live Ok Io non mi presento mai Io sono Ah perché Perché sono sociopatico Ok Però ti viene questa persona Vicino Ti devi presentare Cioè come Ti hai rapporti Ciao Piacere Simone Non dico mai piacere Perché non so mai Se sarà un piacere Conoscere quella persona Non dico mai piacere Ok Mi sa che è una roba Di galanteria Che non si dice mai piacere Perché tu non sai Se effettivamente Sarà un piacere Conoscere quella persona Magari becchi Non lo so Beccavi ai tempi Totorina E gli dicevi piacere Non è un piacere Capito È una roba vera in realtà Infatti non dico mai piacere Dico sempre il mio nome Simone Ciao Simone Ok E basta Cioè è solo così Se mi fa una domanda Gli rispondo Come stai? Bene Tu? Eh però dico Com'è che Ok come Ma scusa Chiudi Chiudi il Metti il muto Eh no ma Sì sì Metto Sì Magari mi chiami La mia madre Che non sta bene Non so Vai Però dico Trasciando No ok Primo impatto Piacere Ok Non piacere Simone Però In generale Dico Come ti rapporteresti Una persona che Vuoi conoscere Cioè vuoi Ma voglio conoscere Tipo una ragazza Che mi piace No che vuoi No 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 Con cui vuoi stringere amicizia Come ti rapporteresti Cosa faresti Sono sociopatico Non si pone il problema Vuol dire Hai degli amici Hai degli amici Sì Vanno bene quelli Cioè non mi interessa Stringere amicizia E allora qual è il problema Perché mi stai facendo Sto casino Che vuoi Che io ti conosca bene No ma io non voglio Che diventiamo amici Che io ti conosca bene La tua persona No no Eh però hai detto Che vuoi che conosca bene La tua persona Quindi io ti sto facendo Questa domanda Per capire come Eh ok Nel senso In una situazione Del tipo in cui Siamo al game suite Tu vieni da me Ti presenti Vabbè tu sei una donna Non vale Però fai finta di essere un uomo Vabbè scusa Però con le donne Sei più gentili No ci sta E' onesto Ok Se viene da me Uno si presenta E gli dico Mi sto uscendo la pancia E gli dico Simone Cioè non mi interessa Diventare amico delle persone Non so come dire Cioè non me ne frega niente Ecco le persone Con cui sei amico adesso Come ci sei diventato amico Eh situazioni Cioè magari andavo In posti Un mio amico Già mio amico Portava anche loro E poi diventavano miei amici No quindi sempre per caso Sempre per caso Cioè non c'è stata mai una persona Che tipo E' stato detto Nelle live Con Kokashi Inizialmente Non eravate amici Cioè poi lo siete diventati Vi siete trovati bene Avete fatto più live insieme Vabbè mi è di Kokashi E mica siamo amici Ah non siete amici Sì Amico Io ho un quanto di amici Chi reputi amico Amico Un'altra domanda Chi reputi tuo amico Cioè per te cos'è un amico Un amico è una persona Che se ho bisogno E se lui ha bisogno E se voglio fare qualcosa La sento E so che ci sarebbe E che io ci sarei Per me questo è il concetto Di amicizia Cioè Nel senso Per me gli amici Amici sono Boh Cinque Quattro Ok ok Allora mi sono espressa io male Perché io sono d'accordo con te Cioè nel senso Anche secondo me Gli amici sono pochi Però come li chiami Gli altri conoscenti No 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 Quindi io dico amici Anche io dico amici Ci sono anche gli amici più stretti Certo Che sono quelli che dici tu Sì sì no effettivamente hai ragione tu Cioè ci sono i miei amici stretti Sì perché mi ingazzano Sì Kokesh è una mia amica Certo Non è ovvio che sia una mia amica Però non è una persona che Cioè In cui mi sei Eh non è un'amica stretta Sì Cioè sono d'accordo che gli amici stretti Sono pochi Ma quelli Sì 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 Cioè Poi E' così Tu credi nell'amicizia tra uomo e donna? Io sì Tu no? Hai un migliore amico? Allora no Attualmente non ho un migliore amico Ho più amici Con cui mi trovo abbastanza bene Maschi? Però comunque ci credo Sì 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 Però ci credo nel senso che Allora In realtà ci credo Soltanto In un caso Ci credo se Il ragazzo È fidanzato O è innamorato Di un'altra ragazza Perché se no Capita spesso e volentieri Ovviamente noi in tutti i casi Però Capita spesso e volentieri Che Vuoi o non vuoi Arrivi a provare qualcosa Per l'altra persona Se Capito? Ti conosci tanto bene Perché poi i migliori amici Entrano anche un po' Nella tua Nella tua sfera Diciamo più personale Quindi capita Spesso e volentieri Che L'amico Entrando nella tua sfera personale Ma anche l'amica Può capitare Che può Diciamo Infatuarsi Ti è capitato più di una volta? Sì Purtroppo sì Anche con i migliori amici Però comunque Continuo a crederci Perché secondo me Esiste Cioè se L'amico È innamorato Di un'altra persona Secondo me può nascere Una bella amicizia O magari siete amici da tempo E vi conoscete così bene Che sapete che Non può funzionare Tra di voi Tu come non la pensi così? Io penso che Più si va avanti negli anni Cioè più si diventa grandi Più è probabile che esista Cioè comunque Una persona di 50 anni Sposata Ci sta che possa avere delle amiche E vederle come amiche Esatto Quindi più o meno Come dico io Da ragazzini Cioè da ragazzini È molto difficile Secondo me avere delle amiche Cioè da tipo Il ragazzino Tutte le amiche Ci sono convinto Che tutti Quelli che sono nella mia chat O nella tua chat Se hanno meno di 23 anni 25 anni Tutte le amiche che hanno Se loro andassero Se queste amiche andassero da loro E gli dicessero Senti ho una voglia estrema Di fare sesso sfrenato Potrebbero Loro direbbero Ok me lo accollo Faccio Magari non è il loro primo pensiero Però direbbero sì No concordo Sì concordo E quindi il fatto che un'amicizia Potrebbe essere rovinata Da una frase che dice la donna Vuol dire che già È un po' Poi dipende anche dal carattere Di quella persona Cioè ci sono anche ragazzi Che non accetterebbero proprio Per una loro etica Che ci sono comunque ragazzi Ancora che sono così Però sì Sono d'accordo con te Cioè È più o meno quello che ho detto io Non ho detto l'età Però comunque Esatto Se è innamorato È sposato Quello che è Lì ci può essere più un'amicizia Quindi sì Sono d'accordo Vero 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 Assolutamente E tu non hai OnlyFans Vero? Mi auguro No Ok non è Hai qualcosa contro Non è qualcosa contro Però ormai Chiedere a una ragazza Sono OnlyFans Dio bono È quasi più probabile Che ti risponda Cioè Che dica sì Cioè ormai chiedere a OnlyFans È tipo I OnlyFans Vero? Ah sì Ah ok Cioè un tipo Fidati Cioè poi ma so Perché l'hai chiesto tu? No no Perché immaginiamo Che non ce l'avessi Così non ce l'avessi Tu l'hai chiesto Per l'esatto opposto Sì sì Mi auguravo Che non ce l'avessi Ti ho elogiato Non fai vedere le tette E hai un sacco di numeri Cioè sarebbe stato paradossale Se hai OnlyFans Quindi meno male Ok ok E non lo faresti mai? Non parlo di cose mie personali Né sotto quel punto di vista Figurati se Mi mettessi scoperta Cioè allora Per me Molte persone Tipo mi Dicono che ho spettatori Dicono che Molte persone mi seguono Perché Faccio vedere il seno Cosa che secondo me Non è vera Perché indosso semplicemente Maglie scollate Cosa che è normalissima Cioè No perché ho i capelli davanti Però ho la maglia scollata Cioè ho la maglia scollata Però comunque non si vede troppo Nel senso Non si vede niente Però vabbè Di solito a me piace mettere maglie scollate Però ho smesso di farlo in live Proprio perché mi dava fastidio L'idea che dovesse rassociare Il fatto che mettessi maglie scollate Ai numeri Cioè mi dava proprio fastidio A parte che a me non è interessato niente Mai niente fare numeri In base alla scollatura Perché quelle sono Persone che arrivano lì Malati Che vogliono semplicemente guardarti Farsi segotto e via Cioè a me non interessa farmi quella community lì A me interessa farmi una community di persone Che mi apprezza per quello che sono Stessa cosa sui social Cioè posso foto magari con la scollatura Ma le posto come qualsiasi altra cosa Cioè posso quello come posso quell'altro Però non mi metterei mai Nuda sui social Non fa proprio parte di me Mi dà fastidio Cioè non vendresti mano A tua foto dei piedi La foto dei piedi non me ne frega un cazzo Ma non la venderei La farei vedere Cioè se vuoi ti faccio vedere anche i piedi adesso No Ci stavo mettendo la prova Vedi è sbagliato Ah cazzo sono calcato Porca vacca mi l'ho fatto prendere dal momento Meno due punti No 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 ma non mi piacciono neanche i piedi a me Cioè non mi fanno come vedere un dito Giusto avere il contenuto diciamo Sì 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 No comunque sì è la stessa cosa per me Per questo dico Non li venderei Non mi frega un cazzo Ok E quindi neanche tipo Non potresti mai Cioè non potresti mai Vendresti una foto nuda No Assolutamente no Ok Ci sono state persone che me l'hanno chiesto Mi hanno anche detto Diciamo che mi davano tanti soldi Ma no preferisco non vendere il mio corpo sinceramente Tipo quanti soldi hanno offerto? Tanti Non mi hanno fatto 5 mila euro? No 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 più di 5 mila no Per 10 mila euro non manderesti una persona una foto? No assolutamente no Ok Vabbè gli sta fai bene E tu sei dell'idea che? No ma ho proprio Cioè ho proprio vergogna Non ce la farei Cioè io ho vergogna di mia madre che mi vede nuda Figurati Ok No Ok Ah ma è giusto questa cosa Ah è giusto È fatto È fatto bene Secondo te chi è lo streamer più bello in Italia? Lo streamer più bello in Italia? Sì Fai finta che io non faccia parte di questa classifica Non sarei quello però Ti stai auto escludendo? Sì 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 Perché non voglio sentire un nome che non sia io Quindi non fai finta che non ci sia Anche se non sarei stato quello che avresti detto Comunque Allora non ne conosco molti in realtà Però? Ci sto ragionando Ci sto ragionando Tra quelli che conosco Allora tra quelli che conosco secondo me Power è un bel ragazzo E un bel ragazzo anche Gianmarco dai Loro due Per me sono i più carini diciamo Ok Ok E tu durante la tua giornata guardi Twitch? Non di solito Cioè è raro Sinceramente che apro Twitch Per vedere Lo facevo più prima Per conoscere più persone Però adesso Ma tu streami da che ora a che ora? Dalle otto a mezzanotte Ah quindi adesso sei Però vabbè poi Vabbè no dipende Cioè nel senso posso anche rimanere più tardi Capito? Lo faccio perché È mio solito fare così Però se stanno facendo Tutti i giorni? Sì Tranne sabato e domenica Sabato e domenica Di pausa Dove streama Hank? Hank streama Sì sabato e domenica Esatto Ok Ok Ma sei sparito? Gilbert Eh porca vacca Che cosa è successo? Sì è successo È successo quella cosa lì Cosa? È successo proprio quella cosa Purtroppo la fotocamera Che Jody mi ha gentilmente prestato È successo una cosa molto molto brutta Eh sì Ma c'è ancora Jody nel backstage Vediamo Eccolo Che assurdo Grazie Grazie mille Tu sei così lì ad aspettare Ma presto No no io sto Sto chillando su Steam Sto facendo un po' di shopping No però Jody ti devo ringraziare Per avermi regalato Questa fotocamera Ma grazie a te zio No veramente Peccato che si surriscalda Di essere mio amico Eh peccato Peccato che si surriscalda Ma che fotocamera è? È una Sony A5100 Sempre una Sony A5100 È il primo modello Qual è la tua scusa Kasumi? Infatti a 2000 manco esiste No no è forse l'A5600 La mia? Sì A Sony A52000 Ma non esiste Partono dalle 5000 Fidati Ma c'è scritto sopra? No dove c'è scritto? Dove posso vederlo? Sopra Secondo me Ah no non esiste neanche l'Alpha 6L2 Mi sembra che tu ebbe una buona qualità Secondo me è la Mark II Cioè hai la Mark No secondo me è l'Alpha 6100 Aspetta ma faccio una foto Non so se hai riuscito a capirlo Ok sì sì Io rispiro No ma se tu C'è sopra Sì no 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 Fai la parte sopra Fai una foto alla parte sopra Anzi leggi cosa c'è scritto sopra Secondo me è la Magari non è neanche una Sony Vabbè sì Ah la 6000 è vero Cioè io in tutta la mia vita Ho sempre detto 2000 A6000 E nessuno ti ha fatto notare In chat non esiste No 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 ho sempre preso per il culo Tutti praticamente Ok A6000 Divertente Hai l'A6000 basta? Sì Ok ok Vabbè questa qua è la 5100 Che Jody mi ha detto che è Jody è così È il primo modello delle Sony Alpha Che purtroppo Essendo il primo modello Ha uno stop Delle Sony Alpha Con sensore PSC Con sensore PSC Ma perché Ma scusa Quella che avevo prima Era full frame No 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 Sempre PSC Però è la prima Della serie Con la PSC Vabbè E Niente Casumi si fa i cazzi suoi Porca di No Parla con la sua chat Parla con la sua chat Stavo un attimo ringraziandola No Questa qua è la prima E quindi C'è questo bug Che dopo un po' Si surriscalda Purtroppo Che hanno risolto Nelle versioni dopo Quindi Oh C'è Gilbert Chi è Gilbert Come chi è Gilbert Gilbert Anaka Più del mondo di palleggi con la testa Che ha fatto un nuovo record Ha fatto un nuovo record No Non lo conosco Ok Sì 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 Ma senti Tu appena stacchi la live Vabbè Io non conosco un cazzo di nessuno Quando sto con la live Vado a dormire Di solito Oppure Sto sul League of Legends Dipende Lol Ma non c'è mai giocato In live A lol Sì sì Ci gioco Ah ci giochi Ok Sì sì Però ultimamente Allora dipende Ultimamente sono andato a dormire prima Però prima andavo a dormire pure verso le 3 Wow Fantantissimo Pazza eh Una pazza E ti svegli alle No no E ora Presto Cioè verso Presto poi Verso le 10 Prima mi svegliamo più tardi Oppure verso mezzogiorno No Ok Dipende anche da Da quando vai a dormire alla fine Ok ma tu studi Fai università Tipo No mi sono diplomata Come truccatrice Dello spettacolo Ah Quindi io ho finito I studi Cioè ho finito Quello Dovrei in realtà Fare altri Corsi Cavolo Io Deo giovedì Dovrei fare un show a Milano E potresti farmi la truccatrice Pagata Certo Potresti Cioè pagata Volentieri Ah niente No si è pagata Volentieri Ok Caché Beh parlatene in privato Dai 100 euro No per te 1000 Vabbè Pensa che Pensa se per avere Kazumi Addirittura la paghi Per venire a fare la truccatrice Assurdo Beh se è una truccatrice Comunque io ho bisogno di essere truccato Vabbè Già di questa affermazione Mi ha Non mi è piaciuta No io lo so Io l'ho solo detto Perché se tu vuoi Kazumi Stai screditando il mio lavoro da truccatrice? Assolutamente no Sto dicendo che Se come Scamotage per averti Ti deve pagare Per venire a fare la truccatrice Quando potresti Potrebbe chiederti Vuoi venire al Greenbow Show Ospite O comunque vieni là a vedere Il Greenbow Show Non lo fa Ma è di Napoli Anche perché non mi arresti Verresti? Ha pagata sì Ha pagata per venire lì Che ti diranno Ti regalo il biglietto Più pagamento Vabbè Veramente Questa è una casumata La casumata No Sì veramente È una follia Non sei alta Io sono molto bassa 1,59 Ma tu eri a la GameSweek? Sì Io forse Anche io l'ho vista Sì Io non solo ti ho vista Io ti ho pure detto Ti vuole Ti vuole uno Sì aspetta Eri tu Sì 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 A un certo punto Da Dive Io ho fatto Sì sì Allora sì Ciao scusa Ti vuole tizio Allora sì Ecco Quello è stato il nostro primo incontro No No Scusa Io ero sempre da Dive a ubriacarmi Non mi hai mai visto? Altissimo sono Due metri Sì 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 Io ti ho visto Sì io ti ho visto te Ah tu mi hai visto al vivo? Sì ma è venuto anche un tuo moderatore forse a dirmi Greenblood ha chiesto se vuoi fare una live con lui Vabbè Forse Ale È un idiota No saldone No picca Mamma mia Era alto questa persona che te l'ha chiesto? Un po' ricciolino? Sì sì Lui Lui Dimmi se era lui Aspetta Ah ma lo puoi vedere direttamente così? Eh sì sì Forse sì Pazzesco Veramente Ci provi in ogni modo Ci provi in ogni modo Vabbè ma è normale È normale Kasumi Vabbè ci sta Comunque Kasumi Io ti ringrazio per questa chiacchierata Io ti rinviterò sicuramente per format Ma era anche con Coq Con Joe E con Tutti tranne Billy Bella Comunque Io ti ringrazio veramente Perché? No 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 Billy Bella va fuori Fuori? Fuori? Sì 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 No Billy Bella va La esclusa Sì 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 Esclusa completamente E io ti ringrazio veramente E spero che tu accetterai i miei inviti Se li accetterai Amen Ma perché no? Ti ripeto che non ti odio Cioè ho avuto Semplicemente Un'opinione Ma Non vuol dire che Non accetterei di fare live con te Ok però Diciamo che Si può concludere dicendo Quando io ti ho scritto quel messaggio Di cui ho messo anche lo screen nelle storie Non so se l'hai visto Ho messo lo screen nelle storie Della nostra conversazione Dove io ti dico Quale? Quello dove io ti dico Beh l'unico modo che hai per scoprire Se sono cambiato è Fidarti E venire live L'avevo visto Esatto L'ho messo nelle storie Ti sei fidata? E la domanda è Sì E rispondi sinceramente Ti sei pentita o no? No 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 Perché mi dovrei essere pentita Non hai fatto niente di strano Non mi hai insultato Non hai fatto niente Perché dovrei Ma neanche quelli che mi insultano Capita Ok va bene Kasumi è stato veramente un piacere Ti auguro la live migliore del mondo Piacere mio Spero vincere tutte le partite su League of Legends Non ne perdi una E No Non credo Potrei di tutto tranne questo Ti auguro veramente di scoprire il nuovo gioco Che ti terrà incollato allo schermo per sempre Davvero Ti auguro il meglio di tutto Grazie mille Kasumi Non è far a culo questa cosa Davvero Grazie per avermi invitata E buonanotte Grazie Buonanotte Grazie mille Ciao ragazzi Grazie per avermi invitato Ciao 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 ciao